Oltre all'operaio morto originario di Montori Albomano Luigi Coclite, c'è anche un'azienda terramana coinvolta nella costruzione del supermercato S. Lunga a Firenze. Crollato venerdì 16 febbraio, stiamo parlando della RDB Ital Prefabbricati, azienda leader nel settore dei manufatti in cemento con sede a Casoli di Apri, che ha fornito delle travi tra cui quella crollata e la cui installazione sarebbe stata subappaltata. Il nome della ditta abruzzese è tra quelli dei 61, tra società e imprese impegnate nel cantiere toscano che figurano nell'elenco dell'esame della Procura di Firenze, che indaga per omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Difetto di fabbricazione, errore nella progettazione e nell'installazione di una trave sono le ipotesi al vaglio degli inquilenti per stabilire la dinamica e la responsabilità del crollo. Nella giornata di sabato gli agenti della Polizia Postale dell'Aquila, su delega della Procura fiorentina, hanno acquisito documentazione varia nella sede del gruppo abruzzese, tutto materiale relativo al convolgimento nel cantiere di Firenze e alla produzione dei manufatti forniti. Per ora la Procura procede contro i gnoti, quindi senza indagati, ma evidente la corsa contro il tempo nell'acquisizione del materiale e molto probabilmente per emettere quelli che si annunciano come numerosi avvisi di garanzia, prima delle autopsie sugli operai morti. Ancora tutta da ricostruire la dinamica della tragedia, dalle prime testimonianze raccolte nel corso dei primi interrogatori in Procura con persone informate sui fatti, sembra che ci fossero degli operai impegnati a sistemare la trave nella mensola o al piano della struttura quando improvvisamente la trave avrebbe ceduto, causando crolli a cascata del pilone e dei solai di altri piani. Le travi sono dei prodotti che arrivano nel cantiere già finiti, ipotizzabile che tra le consulenze che saranno disposte dai magistrati in questa prima fase ci sarà anche quella per analizzare il materiale utilizzato per realizzare questi manufatti, così come consulenze saranno disposte sulle modalità di installazione. Oggi a Montoro Alvomano, dove l'amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali, una messa in memoria di Luigi Coclite, che nei mesi estivi tornava spesso nella cittadina in cui vivono alcuni familiari, era molto benvoluto da amici e compaesali che lo hanno ricordato con tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social, ed è scritto come un gran lavoratore che negli anni aveva acquisito una grande esperienza e professionalità proprio nella guida dei mezzi pesanti che operano all'interno dei cantieri.